Non mi piace che si guardi in casa mia. Mi dovrò abituare a dei vicini, non ne ho avuti per tanto tempo. Tieni dell'acqua fresca sul davanzale della finestra. Avanti. Dottore, c'è qui Anna. Tre. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, non mi aspettavo una tua telefonata. È strano. Sapete, in questa zona, nel 1600, diverse persone furono processate dal tribunale dell'inquisizione. Ma non tutte erano streghe. Tra di loro c'erano anche dei benandati. E si dice anche che parlassero con i morti. Come i medi. Non farà del male a quel gatto, vero? Per effetti non vorrei. Ma qualcuno gli deve ricordare che le sette vite potrebbero non durare a lungo. Anna! Oh, credimi, un paio di giorni qui e cambiresti lei anche qui. Oh, credimi, un paio di giorni qui. Oh, credimi, un paio di giorni qui. Oh, credimi, un paio di giorni qui. Grazie a tutti.